Made in Italy vuol dire camminare alla moda ma soprattutto camminare comodo. Il nostro è un impegno che è ormai data da oltre vent'anni, quello di fare delle scarpe che rappresentano la creatività, lo stile, il design italiano, tutte le materie che anche i nostri fornitori ci forniscono per creare dei prodotti unici e noi aggiungiamo un tocco di ingegneria per farle anche molto comodo, quindi scarpe piacevoli da indossare e belle da vedere. Allora Outdry è anche un'altra novità? Sì assolutamente, questo è davvero il lato tecnologico più avanzato che abbiamo voluto introdurre con questo Meekam. Qual è il vantaggio che offriamo? Una calzatura traspirante e impermeabile. Sappiamo benissimo tutti cosa vuol dire affrontare d'inverno con l'acqua, la pioggia e le intemperie, qualche camminata e il dover essere in una condizione che magari può essere poco piacevole e poco gradevole. Bene, abbiamo realizzato un prodotto che garantisce con dei test molto rigorosi una completa impermeabilità e allo stesso tempo ovviamente favorisce anche il naturale respiro del piede.